Oggi parliamo della ricostruzione 3D per il parcheggio, cioè quello che avviene intorno alla macchina. Finalmente è arrivata e abbiamo le prime immagini. Poi FSD in Cina e poi parliamo ancora di Cybertruck. A tra poco! Bentornati a Lampi di Tesla. Bene, abbiamo parlato proprio negli ultimi giorni e finalmente con l'aggiornamento di Natale che è in distribuzione sta arrivando anche la ricostruzione 3D dell'ambiente circostante in fase di parcheggio. Che cosa significa? Significa che Tesla tramite le cosiddette occupancy network, con l'utilizzo delle telecamere e dell'elaborazione 3D si riesce a costruire intorno a sé quello che è l'ambiente circostante per dare le indicazioni sul parcheggio. Diciamo più o meno quello che facevano prima i sensori, ma con l'obiettivo di far diventare il tutto molto più sofisticato e utilizzabile, molto più preciso. Dai video sembra che effettivamente il prodotto sia di livello, secondo me è ovvio che bisogna provarlo. Comunque è in distribuzione, quindi fatemi sapere se ce l'avete e come vi trovate. Ovviamente a parte la grafica che può essere comunque gradevole da vedere, una cosa che sembra futuristica e fantascientifica, poi la cosa importante è effettivamente il fatto che sia utilizzabile. Devo dire che da alcuni video che ho visto, magari in garage anche abbastanza particolari, con dei pilastri, con degli spigoli, eccetera, eccetera, devo dire che funziona discretamente bene, per quello che si vede, ripeto, va provato. E tra l'altro vengono riportati non solo gli ostacoli, ma anche tutte le strisce per terra, quindi le righe dei parcheggi, eccetera, eccetera. Un'altra cosa molto interessante è il fatto che sembra che finalmente Tesla si stia muovendo un po' per quanto riguarda il salmon e l'autopark per le auto che sono senza sensori. Ma questo era, diciamo, il passo fondamentale, appunto la ricostruzione 3D, per arrivare poi al salmon per le auto senza sensori. Quindi, come dico spesso, è tutto collegato, cioè si basa tutto sulla visione e l'interpretazione delle telecamere per poi sviluppare tutto il resto. Vuoi che sia le funzioni di parcheggio, i fari matrix, oppure i tergicristalli. Quindi è tutto un miglioramento continuo. E ora andiamo in Cina e parliamo di FSD perché, questo è un tweet di qualche giorno fa, ma poi abbiamo avuto altro di cui parlare, si diceva che entro quest'anno, quindi entro la fine del mese, sarebbe cominciata la diffusione dell'FSD beta, chiamiamola così, diciamo per distinguerlo dall'autopilot normale, anche in Cina. Ora, dubito sinceramente che ormai possa avvenire entro la fine dell'anno, ma ormai sembra sdoganato il fatto che il prossimo paese in cui Tesla inserirà la beta sarà la Cina, per vari motivi. Intanto per, probabilmente, una viabilità più lineare, diciamo così, anche una condizione magari delle strade della segnaletica più semplice e uniforme. E poi è normale che, avendo un unico grosso paese con tutte le stesse regole, è più facile raggiungere più persone, più auto della flotta. Pensiamo all'Europa, dove ogni Stato ha le proprie regole, la propria segnaletica. Capite bene che sarà un po' più difficile sviluppare l'FSD. Non impossibile, assolutamente, è solo questione di tempo. Comunque staremo a vedere quando Tesla lo rilascerà in Cina e come andrà. E ora torniamo a parlare di Cybertruck, perché ormai Tesla sta inviando varie mail, sia per la Foundation Series di cui abbiamo parlato, quindi un'edizione speciale che costa 20.000 dollari in più rispetto al prezzo normale, solo per alcuni clienti che hanno prenotato il Cybertruck veramente all'inizio, e poi anche per invece la versione normale, sta proprio inviando le mail a entrambe queste categorie. In particolare, chi poi accetta di andare avanti con la configurazione, deve versare un acconto, chiamiamolo così, di 1.000 dollari, non rimborsabile in questo caso, ovviamente per confermare l'ordine, che vi ricordo che era di 100 dollari rimborsabili, quindi per avere la conferma effettivamente nell'interesse di acquisto. Ma c'è un'altra cosa interessante sui tempi di consegna, perché sul sito americano hanno aggiornato il fatto che la versione a due motori verrà consegnata presumibilmente nel primo trimestre del 2024, mentre per la versione a tre motori, la Cyber Beast, la consegna dovrebbe slittare verso metà fine anno, quindi Tesla sta dando priorità alla versione a due motori. Probabilmente stanno ancora sviluppando le ultime cose per quanto riguarda la versione Cyber Beast. E ora veniamo ai ringraziamenti. Un grandissimo ringraziamento a Maurizio, ci siamo scambiati qualche mail, aveva qualche domanda, è stato assolutamente un piacere rispondergli, e mi ha scritto consentimi di offrirti un caffè per la gentile consulenza, grazie ancora. Ci mancherebbe Maurizio, spero anzi di esserti stato utile, e grazie mille per il tuo supporto. Questo è tutto per oggi, io vi ringrazio come sempre e ci vediamo alla prossima. Ciao!